Ciao a tutti, oggi parliamo di calcoli vescicali in termine medico chiamati uroliti e cercherò di spiegarvi alcuni aspetti che magari non conoscete. Parliamo degli uroliti del cane e quindi vi ricordo sempre che se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi qua sotto cliccando il tasto rosso per sostenere il progetto un bel mi piace e se avete delle curiosità relative a questo video lasciate qua un commento oppure se avete delle curiosità legate ad altre patologie dei cani e dei gatti e delle curiosità che magari non c'entrano ma sono sempre riferite cani e gatti scrivetele pure nei commenti cercherò di realizzare un video ad hoc per rispondere alla vostra curiosità iniziamo subito questo video cercherò di essere abbastanza semplice cercherò di usare termini abbastanza semplici in modo che possiate capire prima di tutto come si formano i calcoli e perché si formano che tipi di calcoli nel cane abbiamo chi li causa fondamentalmente perché alcuni ce li hanno altri no poi andremo ad analizzare i segni i sintomi che ci danno i calcoli nei cani sia in una fase precoce che una fase tardiva e poi ovviamente come di solito si interviene quando il nostro cane ai calcoli partiamo su come si formano i calcoli ora immagino che pochissime persone sappiano perché un calcolo si forma in vescica e quindi partiamo da lì che è il principio questo ovviamente avviene anche nell'uomo però io ovviamente parlo del cane quindi mi riferisco al cane allora un ca per formarsi un calcolo noi dobbiamo avere delle condizioni sempre che ci siano queste condizioni un calcolo non si forma la prima condizione è la stasi urinaria ovvero se noi tratteniamo tanto la pipì è più facile che si formi un calcolo rispetto che uriniamo correttamente cioè nel senso che non la tratteniamo e questo avviene anche per il cane quindi un cane che è abituato a trattenerlo tanto è più soggetto alla formazione di calcoli rispetto a un cane che per esempio può urinare quando vuole facciamo un caso particolare un cane che deve trattenere diverse ore durante la notte chiaramente è più a rischio di formarsi il calcolo quindi ricordati sempre di farli urinare prima di andare a dormire in modo tale che non la devono trattenere troppo questo è molto importante la stasi urinaria da sola però non è condizione c'è esiste solo questa condizione devono esserci altre condizioni nel cane per esempio è la concentrazione di alcune sostanze che grazie alla stasi urinaria ha determinato ph dell'urina si uniscono formando delle piccole pietre quindi abbiamo la necessità di avere un'urina con una alta concentrazione di alcune sostanze che poi andremo a parlarne e deve esserci un determinato ph dell'urina l'urina come tutti i liquidi che sia l'acqua che sia il sangue ha un ph e può essere un ph che sia acido o basico cerco di spiegarvi il ph il ph neutro è 7 quando è sopra i 7 si dice che è un ph basico o alcalino quando è sotto i 7 si dice che è un ph acido quindi fondamentalmente ha un determinato ph acido o basico queste sostanze si uniscono oppure non si uniscono la terza condizione nel cane è che ci siano dei centri di aggregazione che molto spesso sono cellule epiteliale o batteri che permettano che su queste cellule su questo centro di aggregazione si formi poi il calcolo queste diciamo sono le condizioni per cui si forma un calcolo in un cane ora che tipi di calcoli ci sono ce ne sono tantissimi abbiamo calcoli di tutti i tipi che si formano a ph di tutti i tipi noi in questo video cercheremo di parlare dei tre calcoli più frequenti fondamentalmente il primo calcolo di cui parliamo è il calcolo che distruite la struite è fosfato ammonio di magnesio quindi abbiamo il fosfato l'ammonio e il magnesio queste sostanze tendono a non unirsi a ph acido quindi sotto i sette a creare invece delle pietre a ph alcalino quando c'è una stagia urinaria e quando c'è un centro di aggregazione quindi nel cane la formazione distruite è correlata molto spesso anche a uti infezione batterica del tratto urinario che crea determinate sostanze che oltre a essere il centro di aggregazione ma crea anche delle sostanze che aumentano il ph e quindi si forma un ph soprattutto di sette e mezzo otto e mezzo che crea le condizioni ideali per far sì che le sostanze che formano la struite si uniscono a formare delle vere e proprie pietre è legato anche all'alimentazione perché l'alimentazione è ovviamente importantissima sia nella formazione del calcolo ma anche nella riduzione del calcolo poi andremo a parlarne di questo quindi la struite si forma a ph alcalino l'altro calcolo invece più frequente nel cane è l'ossalato di calcio quindi ossalato e calcio questo si forma tendenzialmente a ph acido quindi sotto i 7 molto spesso 5 5 e mezzo generalmente l'ossalato di calcio ha sia una componente alimentare ma ci possono essere anche delle patologie per cui aumenta l'ipercalcemia oppure anche dei farmaci come i corticosteroidi che fanno sì che possano esserci la presenza di abbondante calcio poi nell'urina e quindi la stasi e il ph acido predispone alla formazione di ossalato di calcio anche alcuni alimenti che magari sono acidificanti chiaramente l'abuso di questi alimenti può far sì che si formino gli ossalati di calcio questo è molto importante per la terapia dell'astruite poi ne andremo a parlare il terzo calcolo più più frequente sono i calcoli di urato di ammonio questi tendenzialmente non hanno come colpa diciamo l'alimentazione ma molto spesso è legato a un problema che si chiama shunt portosistemico ovvero una parte di sangue che diciamo venoso che esce dall'intestino diciamo invece di entrare nel fegato e trasformare l'ammoniaca in urea bypass al fegato e quindi questa parte di ammoniaca poi oltre a dare dei problemi importanti a livello di encefalo quindi una tossicità a livello encefalica può ovviamente depositarsi poi nella vescica nell'urina e quindi formare l'urato di ammonio questi diciamo i tipi poi ci sono gli uroliti di cistina di xantina ci sono veramente tanti di silicati però cerchiamo di soffermarci su quelli più frequenti perché altrimenti diventa un video difficile anche da seguire quindi la cosa che mi interessava fin qui farvi capire come si formano i calcoli quindi stasi urinaria cane che trattiene tanto la pipì alimentazione importantissima patologie ovviamente sottostanti come shunt portosistemico i cause che creano l'ipercalcemia di solito nella struvite ci sono infezioni batteriche che non sono state gestite quindi creano un ph elevato importanza del ph ogni calcolo si forma un determinato ph questo sarà importante anche poi nella gestione sia della terapia ma anche per evitare chiaramente il riformarsi un domani di questi calcoli cosa vediamo noi fondamentalmente quando un cane ha i calcoli e qui facciamo già la differenza tra femmine e maschi premettiamo che il calcolo come vi spiegavo è una pietra e chiaramente inizialmente è piccola poi chiaramente se non viene gestita questa pietra aumenta 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 e abbiamo anche dei calcoli di dimensioni importanti soprattutto nelle femmine nel maschio tendenzialmente il problema già può verificarsi quando il calcolo è molto piccolo questo perché perché l'uretra del cane è più lunga e stretta inoltre il cane a livello di pene ha l'osso del pene l'uretra è quel tubo che collega la vescica all'ambiente esterno nella femmine invece l'uretra è più larga e più picco e più corta quindi i calcoli piccoli di solito non sono quasi mai un problema quindi abbiamo già una differenza l'urolita è molto più grave nel maschio che nella femmina punto interrogativo né nel senso che sicuramente nel maschio può darci subito un'ostruzione importante perché un calcolo piccolo può già occludere l'uretra e quindi il cane non riuscire ad urinare e rischiare poi la rottura della vescica perché non riesce ad urinare nella femmina è vero che l'urolita piccolo può uscire ma può essere che noi non ci accorgiamo e poi ci troviamo un urolita gigante e magari romperci poi la vescica quindi fondamentalmente noi cosa vediamo nel nostro cane che ha gli uroliti tendenzialmente un cane che ha gli uroliti che ai calcoli vescicali dovrebbe avere la cistite dovrebbe comunque avere anche la cistite nel senso che comunque tendenzialmente dovrebbe avere tutti i segni e sintomi di una cistite infatti quando ci si presenta un cane con segni e sintomi di cistite il medico veterinario va a verificare se non c'è anche la presenza di uroliti attraverso radiografia ed ecografia quindi segni di cistite di solito cosa sono di solito i segni di cistite sono pollaciuria dolore di solito la minzione come lo manifesta il cane il dolore facendo dei piccoli gocci quindi se avete una femmina che fa dei piccoli goccini in casa che magari vedete che spesso e volentieri fa dei piccoli gocci addirittura non lo faceva mai in casa faceva sempre fuori invece in quel periodo lì la sta facendo dei piccoli gocci quelli sono dei primi segni di cistite e va immediatamente portata poi dal medico veterinario a verificare le cause di cistite sia per curare la cistite e verificare chiaramente che non ci sono uroliti per esempio che che possono complicare questa cistite nel maschio è un po più complesso soprattutto nel maschio intero perché molto spesso marcando fa dei piccoli gocci nel maschio castrato è un po più facile accorgersene perché dovreste vedere il vostro cane che urina e a un certo punto non urina più come prima cioè nel senso quando alza la gamba esce bene il getto di urina quando invece ha la cistite dovrebbe fare anche lui dei piccoli gocci quindi doverste vedere questa differenza quindi un cane che è abituato di solito la domanda che facciamo è ma il cane come urina cioè rispetto magari un mese fa due mesi fa fa dei piccoli gocci oppure esce bene il getto cioè di solito facciamo queste domande per capire nel maschio intero è un po più complesso proprio perché ha questa abitudine di marcare quindi fa a volte dei goccini quindi può essere che non si accorga importante nel maschio chiaramente è vedere se alza la gamba e non esce niente sta lì e non esce niente lì bisogna ovviamente capire che può esserci questo tipo di problema e intervenire subito perché magari se già occlus e quindi in 24 ore ci sarà un peggioramento sicuramente la sintomatologia quindi non bisogna aspettare quindi se esce poca urina chiaramente bisogna portarla ma se non esce e il cane sta lì e vedete che cerca di farla ma non ce la fa lì vuol dire probabilmente è l'orolita ha bloccato chiaramente possono esserci altre altre cause per esempio di cani magari più giovani che possono già dare questi problemi proprio perché è legata all'alimentazione quindi può capitare anche in cani molto giovani la presenza di un urolita un calcolo che va a bloccarsi a livello di osso del pene quindi nel maschio può esserci ha problemi con calcoli molto piccoli nella femmina molto spesso i calcoli molto piccoli non li vediamo e quindi quando c'è una cistite comunque è sempre meglio andare a verificare chiaramente c'è anche la presenza di uroliti in modo tale da verificare come gestirli ed eventualmente modificare la dieta o se c'è un sospetto che ci sia un'ipercalcemia andare a verificare che causa può cos'è che può avere causato questo tipo di problema se è solo l'alimentazione se sotto c'è qualche altra problematica se arriviamo troppo tardi cosa abbiamo fondamentalmente possiamo avere ripeto l'ostruzione dell'uretra nel maschio quindi quel cane vedete che alza la gamba e non esce oppure sangue nelle fasi magari prima quindi se vedete l'urina che è rossa anche lì bisogna portarlo per verificare che non ci siano uroliti sia nel maschio che nella femmina ripeto tutte le quando un cane ha una cistite dei segni di cistite quindi piccoli gocci frequenti bisogna andare a verificare che non ci siano uroliti che non ci siano calcoli vescicali come si interviene una volta che noi abbiamo diagnosticato che il nostro cane ha questi uroliti ovviamente noi possiamo avere un'idea di che tipo di urolita è grazie all'esame dell'urina però poi l'esame del calcolo sarà quello che sarà fondamentale per avere un chiaro una chiara idea è chiaro che se noi abbiamo per esempio una femmina che ha cistite facciamo la nostra ecografia e troviamo dei piccoli calcolini il ph è 8 possiamo presupporre che quelli siano calcoli di struvite soprattutto se non ci sono altri segni che ci fanno percepire che possa essere per esempio altre tipologie di calcoli la struvite che è il calcolo più frequente nel nei nostri cani è un calcolo che ha la fortuna che può essere sciolta può essere sciolta grazie ad alimentazioni più acide cioè che rendano l'urina più acida in modo tale che con un'urina acida il calcolo tende a sciogliersi quindi è uno dei pochi calcoli che riusciamo a sciogliere grazie alle alimentazioni e non solo grazie ad un intervento chirurgico quindi è molto importante che se diagnostichiamo la presenza di struvite all'interno dell'esame delle urine la struvite all'interno dell'esame delle urine al microscopio è abbastanza caratteristica iniziamo subito un'alimentazione che ci permette di sciogliere questo calcolo per evitare chiaramente la formazione di calcoli più grossi o nel maschio l'ostruzione per esempio questo diciamo l'approccio sull'astruvite il calcolo diciamo più frequente sull'ossalato di calcio invece non abbiamo questo tipo di fortuna perché difficilmente l'ossalato si scioglie quindi nel maschio anche piccoli calcoli di ossalato possono poi darci dei grossi problemi nel momento in cui cercherà di espellerli quindi i calcoli di ossalato nel maschio andrebbero sempre rimossi chirurgicamente perché il rischio comunque che si ostruisca c'è mentre invece nella femmina si può tentare attraverso delle alimentazioni di cercare di cacciarli fuori quando ovviamente sono piccoli se diventano grossi anche lì l'ossalato di calcio va fatto l'intervento chirurgico per quanto riguarda invece l'urato di ammonio anche quello non esiste un alimento che scioglie c'è un alimento che evita magari che diventino più grandi ma che li sciolga è praticamente impossibile quindi tendenzialmente sono da rimuovere chirurgicamente ed è molto importante rimuovere chirurgicamente o da avere il calcolo per poi fare l'esame del calcolo per darci ovviamente l'idea di che cosa poi fare successivamente faccio un esempio noi facciamo una chirurgia di un calcolo magari di un centimetro per un centimetro che vediamo che il ph 6 non ci convince decidiamo di fare la cistotomia ovvero l'intervento chirurgico può andare a rimuovere il calcolo lo facciamo analizzare mettiamo che sia 100 per cento struvite noi sappiamo che quel calcolo è completamente struvite quindi modificando la dieta andremo ovviamente a ridurre la formazione successiva di calcoli se è 100 per cento salato di calcio dovremo trovare la causa ovviamente modificare la dieta ma trovare la causa per cui quel cane ha questa presenza elevata di calcio valutare se ci sono stati dati magari dei farmaci che aumentano chiaramente questo tipo di problema oppure se c'è sotto una patologia che dà ipercalcemia e ipercalciuria ovvero la presenza di calcio nelle urine se è 100 per cento per esempio ammonio è molto probabile che quel cane abbia uno shunt portosistemico e quindi bisogna andare a cercare lo shunt e poi ovviamente valutare che tipologia di alimentazione fare decidere di intervenire chirurgicamente per ridurre lo shunt insomma ogni calcolo poi ha una sua terapia in base alla tipologia del calcolo bisogna chiaramente poi seguire un iter per evitare chiaramente la recidiva dell'urolita spero che questo video vi abbia un po dato delle informazioni di base sui calcoli su come si formano soprattutto è molto importante capire questo il consiglio che posso dare è quello di cercare di non tenere i cani a trattenere l'urina per troppo tempo il cane quando adulto è molto bravo la trattiene perché sa che vi deve aspettare per farlo così esce non sporca a casa cioè quindi cercate ovviamente di far uscire più spesso il vostro cane a fare l'urina poi l'altra cosa l'alimentazione cercate di dare una buona alimentazione che già lavori sulla su evitare la formazione distruvite per esempio esistono molti alimenti di buona qualità che già lavorano su questo tipo di problema e poi chiaramente di non aspettare troppo se il vostro cane presenta dei segni che sono compatibili con una cistite ripeto la polli a chiura quello di fare piccoli goccini frequenti la presenza di sangue questi sono già dei campanelli d'allarme andare subito a verificare non aspettare troppi giorni e nel maschio mi raccomando se vedete che alza la gamba e non esce niente vedete fa dieci passi rialza la gamba e non esce niente quello probabilmente è un cane che invece necessita urgenza e quindi va portato immediatamente perché può essere che sia ostruito attraverso però colpa di un calcolo quindi è molto importante spero questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata